Dispersione scolastica, un fenomeno serio nella provincia di Latina, come dimostra il rapporto della Caritas. Mauro Molucci. L'abbandono scolastico è in aumento in provincia di Latina. Sono 319 i giovani che hanno lasciato le aule scolastiche per disperdersi verso l'ignoto. Sono stati monitorati 19 istituti scolastici, tra Latina, Cisterna, Terracina e Priverno. La fascia d'età va dai 14 ai 17 anni. Gli istituti dove l'abbandono è maggiore sono i professionali e i tecnici. Poca l'influenza nei licei. La città dove questo fenomeno è maggiore è Cisterna. Il 3,28%. Tra gli immigrati c'è un maggiore abbandono. Si arriva al 7%. Le scuole avviano dei progetti, delle iniziative atti a supportare gli alunni che hanno questo tipo di problema, che hanno difficoltà nell'inserimento e anche negli apprendimenti. Però ovviamente sono iniziative che hanno un costo. E questo costo la scuola lo può affrontare solamente in maniera relativa. La risposta deve essere di tutti. Non può essere lasciata soltanto al comparto scuola. Solo se rispondiamo tutti, subito, insieme, avremo qualche opportunità di dare una risposta positiva a questo problema e di impedire che diventi nel prossimo futuro un male grave.